Cari spettatori di Erodoto, oggi incontriamo un personaggio, anzi una personalità a vostra grande richiesta. Spesso nei commenti mi avete domandato, ma perché non incontri Alessandro De Felice, il famoso storico che racconta la verità delle cose? Ecco, vi raccontento, dinanzi a noi c'è Alessandro De Felice in persona, lo storico, il vostro professore. Innanzitutto, siccome scommetto che molti di voi non sanno realmente chi è Alessandro De Felice, per la storiografia non ufficiale. Intanto ti ringrazio per queste parole che hai usato e che mi onorano della tua considerazione, ritenendoti una persona di grande valore culturale. Io da dove vengo? Vengo da me stesso, ma vengo anche da una storia legata alla storia di questo Paese, perché la famiglia di cui faccio parte è connaturata alla storia dell'Italia unita e anche dell'Italia preunitaria. La figura principale dei miei ascendenti la ritengo quella di Francesco De Felice, patriota risorgimentale, nato nel 1821, morto nel 1893, che fu tra i fondatori del regno di Sicilia nel 1848, con la rivoluzione del 1848-49, deputato a Palermo, rivoluzione del 1848, in cui i rivoltosi, la borghesia, diciamo, che anelava all'Italia unita in periodo borbonico, cercò addirittura, chiese l'intervento del duca di Genova, del Savoia, per affidargli il regno di Sicilia tolto ai borboni. Poi la rivolta fu sedata nel 1849 e lui, Francesco De Felice, patriota, dovette riparare a Messina, fu incarcerato, si fece le carceri borboniche e poi lo ritroviamo, lui era professore di letteratura italiana, lo ritroviamo nel 1860 con la spedizione dei Mille, fece sollevare Lentini prima che arrivassero, Garibaldi lo nominò presidente di guerra divisionale dell'isola, lo nominò maggiore di fanteria, nel 1861 lo troviamo a Milano perché andò a Torino, conobbe il Guerrazzi, conobbe Alessandro Manzoni, presentatolo da Cesare Cantù e poi nel 1862 professore tenne la cattedra a liceo ospedalieri di letteratura italiana, scrisse due testi importanti, già uno pubblicato a Venezia nel 1845 e poi pubblicò nel 1870 gli elementi di filosofia positiva e nel 1863, se non ricordo male, introduzione alla letteratura italiana. Penne nominato da Francesco De Santis, ministro dell'istruzione, professore di letteratura italiana all'ospedalieri, è una figura importante perché diciamo che anche per gli incarichi che ebbe il rapporto con Garibaldi, il rapporto con Nino Bixio, il discorso legato anche ai fatti di Bronte, lui fu nominato presidente del comitato di guerra in tutta la querelle che non è quella che hanno raccontato Florestano Mancini nel libro che fece sull'Eccidio di Bronte, come non è quella dell'affare Matteotti del film di Florestano Mancini del 72. Le cose sono molto più complicate, è facile parlare ma è difficile approfondire. Quindi Francesco De Felice è la figura principale. Nello stesso ceppo che poi è legato anche a Renzo De Felice, il biografo di Mussolini, lo storico del fascismo, figlio di Vittorio De Felice, a sua volta legato anche lui a Francesco De Felice, al patriote di cui abbiamo detto prima, Vittorio De Felice si chiama come mio padre Vittorio, erano due cugini. Perché Renzo De Felice nasce a Rieti? Perché Vittorio De Felice, che era funzionario delle dogane catanese, si trova in quel periodo, nel 1929, distaccato nell'Alto Lazio. Lì aveva conosciuto Giuseppina Bonelli, che era una sanmarinese, la madre di Renzo De Felice e quindi lui nasce incidentalmente a Rieti. Il padre di Renzo De Felice, Vittorio De Felice, era stato volontario fascista della prima ora già nel 1922. Era stato grande invalido nella prima guerra mondiale, aveva presso i gas e i polmoni. Sarà anche lui nel 40 volontario, sempre fascistissimo. Da lì poi scaturisce il rapporto conflittuale col figlio, con Renzo De Felice, che diventerà poi comunista e uscirà dal partito dopo i fatti del 1956 in Ungheria. Lì c'è tutto un periodo molto controverso riguardo agli studi che fece Renzo De Felice, che ebbe il grande merito di partire da sinistra nella riscoperta e nella scoperta del fascismo, negli studi sul fascismo, partendo dal radicalismo di sinistra, che era insito nel ceppo familiare, perché quando parliamo di radicalismo di sinistra parliamo di mazzinianesimo, parliamo di risorgimento, parliamo di socialismo nazionale, parliamo di Carlo Pisacane, parliamo di quella che è stata la tradizione anche prefascista del socialismo nazionale che poi viene presa da Mussolini all'indomani del 1914, quando si stacca dal partito socialista con la creazione del popolo d'Italia nel novembre del 1914, poi crea i fasci di combattimento e quindi la straordinaria capacità di Mussolini, del primo Mussolini, di coniugare la sintesi tra nazione e classe, diciamo che è l'imprimatur a quello di cui parlavamo prima, a quel filo rosso che lega il socialismo garibaldino, se si può usare questo termine, al mazzinianesimo, fino alla tradizione, al filo di continuità tra i fasci siciliani dei lavoratori, a questo punto interviene la figura di Giuseppe De Felice, il fondatore nel 1891 dei fasci siciliani dei lavoratori, fino al 1894 quando fu dichiarato lo stato d'assedio qui in Sicilia dal generale Morra di Lavriano e con tutto quello che poi portò i trasfughi del partito socialista, Giuseppe De Felice che era il mio bisnonno, fu uno dei fondatori nel 1892 a Genova del partito socialista italiano, poi fu espulso dall'ala massimalista nel 1912 al congresso di Reggio Emilia durante la guerra italo-turca del 1911-1912 che ci consentì di avere il dode canneso sostanzialmente e poi ritroviamo la figura di Giuseppe De Felice come colui che salvò la vita a Benito Mussolini nel 1917, allorché c'è questa lettera di Bissolati, se non ricordo male, all'archivio di Stato in cui si facevano pressioni sul capo di Stato maggiore dell'esercito che era conosciuto da Giuseppe De Felice, fondatore tra l'altro del fascio parlamentare di difesa nazionale nel 1917 con Maffeo Pantaleoni, c'è questa lettera in cui si pressava Giuseppe De Felice, molto amico del capo di Stato maggiore, per poter far spostare di reparto il caporale bersagliere Benito Mussolini che in quel momento era torturato al fronte dagli ufficiali neutralisti italiani, parliamo della prima guerra mondiale. Poi Giuseppe De Felice morirà nel 1920 e il periodo storico suo è quello che vede il grande duello con i baroni Carnazza, con Carlo e Gabriello Carnazza, personalità importantissime nella catena del primo novecento, legati a doppio nodo con la finanza americana, con i Morgan, con i gruppi inglesi, sono quelli che dominavano la Sicilia orientale nei loro feudi ma avevano anche una grande mentalità imprenditoriale, e lo studio di Carlo Carnazza e di Gabriello Carnazza fondamentalmente era il più importante studio civile a livello di giurisprudenza. Troviamo Gabriello Carnazza, ministro dei lavori pubblici, nel primo governo Mussolini. Lui era entrato come demosociale, entrò nel listone sostanzialmente, è importante la figura perché nei risvolti oscuri dell'affer Matteotti, quindi non del delitto Matteotti, dell'affer Matteotti che purtroppo è stato liquidato da un'osteurofia militante schierata politicamente come un delitto politico, in realtà non è un delitto politico ma è un intrigo internazionale a carattere petrolifero spionistico, dove le prospettive di indagine sono state completamente falsate da una cinematografia che purtroppo ha spacciato la propaganda politica come storiografia. E quindi nell'inconscio collettivo purtroppo l'opinione pubblica, che non è l'opinione pubblicata, anche se qualcuno la volrebbe far coincidere, ha interpretato il rapimento di Matteotti con il delitto fortuito e accidentale che sarebbe scaturito da esso il 10 giugno del 1924, quando Giacomo Matteotti viene rapito sul lungo Tevere e Arnaldo da Brescia dalla Lancia Lambda guidata da Amerigo Dumini o Dumini. Sostanzialmente l'intrigo internazionale è legato al fatto dei risvolti petroliferi che coinvolgevano la Sinclair Exploration Company, la famosa convenzione Sinclair del governo Mussolini e quindi tutti i rapporti con i Morgan, la stabilizzazione della lira legata proprio al prestito dei Morgan, il ruolo di personaggi come Piccarmo Corbino, come De Capitani d'Arzago, i ministri dell'economia nazionale come Gabello Carnazza, all'interno delle faide del fascismo, del primo fascismo, che sono un continente da esplorare da un punto di vista storico-politico. Purtroppo in Italia ancora abbiamo una stereografia che ha fatto passi indietro rispetto a quelli che sono stati passi in avanti fatti negli anni Sessanta col revisionismo storico e quindi l'ondata che stiamo vivendo di censura politicamente corretta impedisce una ridiscussione serena di quelli che sono i grandi eventi epocali legati alla storia del Novecento. In questo contesto si situa la mia famiglia. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.